Cupra Marittima apre il mese di maggio con 17 persone attualmente positive e 34 in isolamento. Dati in calo in confronto alla vicina Grotta Mare che nelle ultime due settimane ha registrato un incremento di casi che preoccupano non poco il sindaco Pier Gallini, il quale invita tutti ad evitare assembramenti e di conseguenza nuovi focolai proprio nel momento delle riaperture. Anche il primo cittadino Cuprense, Alessio Persimoni, raccomanda prudenza dopo l'impennata di casi dovuta ai postumi del carnevale. È una situazione rispetto a quella che abbiamo avuto qualche mese fa, una situazione assolutamente sotto controllo. È vero anche che di pari passo con le riaperture che sono comunque importanti soprattutto per quanto riguarda le attività, quindi benvengono le aperture, comunque c'è un piccolissimo incremento, aumento di casi almeno nelle ultime due settimane però parliamo di sette casi in due settimane quindi assolutamente per fortuna sotto controllo. Raccomando sempre come sempre tutti quanti di fare la massima attenzione e di rispettare tutte le norme perché sarebbe deleterio tornare indietro a nuove chiusure. Il sindaco in vista della stagione estiva spera in un ritorno alla normalità e intanto si gode la riconferma della bandiera verde. Ho dato comunicazione della conferma per il secondo anno consecutivo della bandiera verde quindi ringrazio l'associazione dei pediatri guidata dal professor Italo Farnetani che anche quest'anno ha riconosciuto a Cupra questa particolarità e particolare spiaggia e servizi adatte anche per le famiglie e per i bambini quindi siamo contenti di questo, di poter sfoggiare anche quest'anno questo vestito internazionale. E poi nell'ottica di uno sviluppo dell'offerta turistica abbiamo anche un finanziamento tramite il PIL del GAL che siamo riusciti a intercettare per realizzare dei sentieri che da Cupra a Bassa porteranno fino a Cupra Alta, fino a Marano.